Buonasera da Salotto dello Sport, tutto mercato con intrecci, con il caso De Paul, con Pedro che torna a essere una priorità, con altri nomi anche da quelli che ritornano di Rafigno e Politano al nome nuovo che potrebbe essere quello di Okaka, ma un occhio anche a Genova-Fiorentina, una partita che è già molto importante. Di tutto questo parleremo con un carissimo amico che può indossare tanti avidi, Daniela Merini qui accanto a me può mettersi i panni dell'ex Viola centrocampista e quindi andare a affrontare tutte quelle che sono le problematiche tecniche di una Fiorentina che resta in cantiere aperto, ma soprattutto è uno dei procuratori più importanti, più attivi del calcio italiano e quindi nessuno meglio di lui ci può aiutare a capire che cosa succederà in questo finale di mercato che tiene, diciamoci la verità, Daniele, un po' tutti i tifosi della Fiorentina con il fiato sospeso. Ma è chiaro, tutti ci aspettiamo qualcosa da Pradè, da Gio Barone, da Commissio, tutti ci aspettiamo che ci sia un colpo in entrata almeno, se non più di uno. Io credo che le parole di Pradè di oggi, non dico che bleffasse, ma insomma che sia un po' nascosto, io credo che qualcosa da qui alla fine arriverà, perché comunque è una squadra che sinceramente ne ha bisogno, hanno fatto fino adesso un buon lavoro, però secondo me lo devono completare. Certo Daniele, la sensazione, te che sei un uomo di mercato, ma anch'io che lo navigo, noi sappiamo quanto sia difficile trattare con l'Udinese. Molto. Pradè è fresco appunto di Udinese, quindi probabilmente forse avrà anche un canale preferenziale, però è molto duro a trattare con i pozzo e se vogliono una cifra loro non abbassano. Quindi bisogna capire la Fiorentina dove può arrivare, a cosa può arrivare a spendere. Credo che fosse l'obiettivo principale, anche perché è un giocatore De Paul eclettico, può fare più ruoli, può fare anche chi l'ha avuto, dice che può fare anche la mezzala di gamba, di inserimento, che è un po' quello forse che manca in questo momento forse alla Fiorentina. Fermo restando che Castrovilli ha fatto molto bene, però anche lui non è secondo me una mezzala di grande passo. Quindi secondo me De Paul era un uomo importante che poteva anche cambiare modulo alla Fiorentina. Credo siano dietro anche ad altri giocatori. Un altro secondo me che prima non hai detto e sono stati dietro, secondo me fino alla fine è stato Suso. Suso, sicuramente. Guarda, mi hai dato un aggancio straordinario perché su De Paul pare ci sia stato un contatto del Milan nelle ultime ore e non mi stupisce perché anche il Milan sta facendo un mercato un po' in costruzione, in corso d'opera, se dovesse venire meno Correa, che secondo me ha una valutazione esagerata. Chi meglio di De Paul potrebbe essere il trequartista che esalta le caratteristiche del gioco di Giampaolo? Quindi non c'è solo l'Udinese, altri rivali. Insomma il classico tormentone di mercato. Ma sentiamo le parole di Daniele Pradè oggi durante la presentazione di Dalbert. L'ambizione della Fiorentina è andare subito in alto. Il prossimo anno saremo competitivi per andare in Europa League. Quest'anno, lo ribadisco non tanto per voi ma per tutti quanti, per il nostro ambiente, noi siamo una squadra completamente in ricostruzione perché abbiamo cambiato tutto. Anche i giovani che sono all'interno della nostra squadra l'anno scorso erano tutti fuori nei prestiti. Perciò noi stiamo diventando squadra adesso. Quando diventi squadra con così tanti cambiamenti è impossibile non fare un anno di crescita e transizione sportiva. Perciò io non voglio mettere pressione né al nostro allenatore né alla squadra di avere per forza un obiettivo sportivo. Ma abbiamo l'ambizione di raggiungere qualche cosa di positivo. Ecco, questa è la prima risposta che volevo darti. E la ribadiremo tutto l'anno questa qui perché è un concetto importante. Il discorso che ha perso la partita con Napoli, io ancora mi brucia la sconfitta con Napoli. Però voglio dire che di quella sconfitta prendiamo quello che c'è di positivo all'interno di quella partita, della nostra crescita come squadra e tutto quanto. Se all'interno e alla fine noteremo che ci sono stati degli errori o dei miglioramenti, staltranno ci saranno quei miglioramenti. Ecco, questo era quello che secondo me è importante da spiegare. E la stessa cosa vale per gli ultimi giorni di mercato. Gli ultimi giorni di mercato non è la domanda sempre fissa. Berardi, Politano, Rafinha, De Paul, cose varie. Se ci sarà un'opportunità di una cosa funzionale al nostro progetto la faremo. Se no, no. Ma non è una questione di investimenti, di spesa. Perché il Presidente, a me e a Giancarlo, ci ha dato la massima disponibilità per andare a comprare. Ma comprare tanto per comprare e andare a togliere spazio ai calciatori che noi vogliamo far crescere, non lo facciamo. E poi era ancora viva la trattativa? No, non è viva. Il rapporto con la famiglia Pozzo è fantastico da parte mia. Il rapporto tra Gino Pozzo e Commisso e Barone è uguale. Perché quest'anno non c'è la possibilità per lo Trico De Paul. Ma ce ne piacciono tanti dei calciatori comunque. Solo che ribadisco il concetto. Non vogliamo andare a togliere determinate situazioni per i nostri calciatori. Io è questo che ribadisco. Noi quest'anno vogliamo una crescita di Ranieri, Castrovilli, di Sottille. Vogliamo vederli crescere. Montiel, Vlaovic, Venuti. Se no è inutile aver fatto tutto questo progetto, di mettergli questi calciatori così esperti vicino. Poi non è che Sandro dice delle cose sbagliate, però è un concetto dove il rischio va calcolato. Le uscite ce le abbiamo ancora tutte bloccate. E sapete benissimo che con le uscite bloccate noi abbiamo sempre il discorso del febbraio finanziario. Perciò il nostro tetto salariale rimane molto alto. Se io oggi, come ha detto prima Ibraimovic, vuoi prendere Ibraimovic, anche se costa zero, non lo vuoi prendere. Daniele, io ti porto su quelli che sono gli obiettivi. Io resto convinto che la Fiorentina fa uno, trattino, due colpi prima della fine del mercato. Ma uno veramente ne sono sicuro. Allora ti faccio, per esempio, su Pedro c'è stata una grande accelerazione. Devo dire che questo ragazzo è un talento straordinario, fragile fisicamente, e anche in questo momento è bloccato da un infortunio. È un giocatore, un centravanti di fisico. Potrebbe essere un'opzione. Per caratteristiche io credo sia quello di cui ha bisogno la Fiorentina. Per il mio modo di vedere. Poi magari chi costruisce la squadra ha in mente altre cose. Però io credo che, comunque sia, abbiamo il vero Vlaovic, in questo momento centravanti, visto Domenia titolare, però non possiamo, secondo me, dare tutto il peso e l'attacco a questo ragazzo. Infatti abbiamo visto poi che durante la partita Domenia ha sbagliato due o tre cose facili. Chiaramente era, dopo aver fatto la guerra per mezz'ora, con Coulibaly e Master. Non è una passeggiata di salute. Esatto, quindi credo che anche solo fosse un'alternativa a Vlaovic, io credo che ci voglia in questa squadra. Okaka? Okaka a me non è entusiasma. Può essere solo proprio all'ultimo, secondo me, del minuto. Allora vado su un altro. Rafinha, questo giocatore che in Portogallo sta facendo benissimo. Molto bene, è un giocatore totalmente diverso, un altro esterno, quindi secondo me non andrebbe a risolvere il problema del centravanti. E creerebbe forse sovrannumero sugli esterni, fermo restando che sulla carta, appunto, Chiesa e Ribery quando starà bene dovrebbero essere i due titolari. C'è sottile, insomma ci sono, quindi io credo che probabilmente per la qualità, struttura, Pedro potrebbe essere il giocatore ideale. Allora, chi mira a conquistare velocemente una maglia da titolare è Dalbert, che è arrivato ieri e è stato presentato oggi. Sentite che cosa ha detto. Ovviamente quando c'è giocatore con nomi e sforzi come Odo Ribery... Sì, è chiaro che la presenza di giocatori come l'arrivo e la presenza di giocatori come Ribery e Boateng ovviamente ha fatto la differenza nella sua scelta e sono giocatori per i quali ha sempre nutrito ammirazione fin da quando era più giovane e quindi questa è stata una presenza, un arrivo che chiaramente ha avuto un peso nella scelta di Dalbert che ovviamente spera di poter fare il meglio possibile accanto a questi giocatori. La sua ha sempre avuto un'ottima facilità di adattamento, lo ha dimostrato in Portogallo, lo ha dimostrato in Francia però ovviamente quando si arriva in un calcio come quello italiano che è completamente differente anche rispetto alle sue caratteristiche quindi un calcio più difensivo, più tattico, ci può essere qualche difficoltà in più. Lui stesso è consapevole di non aver giocato bene nelle sue stagioni all'Inter, di non aver reso al massimo ma sa, è convinto di poter fare molto meglio qui a Firenze. Daniele Amerini un giudizio su Dalbert, un talento che secondo me ha per ora fatto vedere il 30-40% del suo potenziale. No, no, sì, sono d'accordo. È un giocatore di qualità, quindi qui in Italia sinceramente non l'ha fatta vedere non so se per questioni ambientali, sai, comunque all'Inter non è mai facile imporsi. Io credo che la Fiorentina, la Fiorentina proprio di quest'anno, credo possa essere la sua dimensione per rilanciarsi fermo restando che è chiaro che deve curare un pochino di più la fase difensiva perché insomma, se no diventa un problema. È chiaro, probabilmente la Fiorentina vuole impostare l'annata, la stagione con Montella di avere spesso la palla, però non sempre ci riesci. Anche perché immagini a questo punto una Fiorentina con Dalbert e Lirola a destra, cioè due terzini che sono due terzini molto offensivi. Due quasi ale, quindi. Esatto, esatto. No, no, quindi insomma è un'occasione importante anche per lui per rilanciare, se comunque è ancora abbastanza giovane, per tornare diciamo un po' ai fasti del passato. Del passato. Allora, non possono sfruttare, ora gli metto di nuovo l'abiti dell'ex calciatore, il centrocampista Merini, di qualità, di regia e di buon senso tattico. La Fiorentina in questo momento, per esempio contro il Napoli, ma io difficilmente immagino delle grandi variazioni anche contro il Genoa, è partita con Badelli, Pulgar e Castrovilli, un giocatore adattato, un Pulgar in un ruolo che non è il suo, un giovane che ha fatto secondo me molto bene. Badelli, più c'è Benassi, più ci sono giovani tipo Zurkowski o giocatori un po' dispersi, tipo Dabo e Cristofo, è un centrocampo forse che poteva essere alzato come livello di qualità? Ma la prima cosa che mi viene in mente, la prima parola, è un centrocampo un po' compassato, non c'è quel giocatore che strappa tra le linee, che comunque si butta dentro, al di là di Benassi, comunque ha tempismo, però non ha anche lui grande corsa, grande gamba, è bravo nel farsi trovare al momento giusto, nel posto giusto. Quindi secondo me manca un po' il giocatore alla Pogba, per dare il senso del tipo di giocatore. Quello manca, poi se Castrovilli ci fa un'annata straordinaria abbiamo trovato magari una mezzala di grande livello, però per esempio Badel e Pulgar sono due giocatori che diciamo monopasso, specialmente Badel, che comunque vogliono una palla addosso, senza palla è difficile che si buttano dentro, quindi Pulgar dovrà in questo momento sacrificarsi un po' di più e cercare di fare cose che non sono nel suo DNA. Io ti confesso che quando la Fiorentina ha fatto un investimento a più di 10 milioni su Pulgar, e io credo che sia un investimento, questo ragazzo li vale tutti perché è stata una delle più belle rivelazioni del campionato, però ti dico la verità Daniele, quando è arrivato Pulgar io pensavo che la Fiorentina andava a due a centro campo, nel senso 4-2-3-1, cioè una squadra che sceglieva di valorizzare la qualità di questi due nella impostazione, ma poi che costruiva un progetto tattico diverso. Portare Pulgar, Mezzala è un ritorno al passato, lui ha fatto anche trequartista, Pulgar. No, lo può fare. Però mi sembra una… io lo vedo sempre molto basso, perché poi lui è abituato a fare il play. Sì, sono giocatori che comunque hanno le caratteristiche per fare anche altri ruoli, però Mezzala magari rende l'80%, un Pulgar centrocampista centrale rende il 100%, quindi è tutto secondo me anche nella testa del giocatore, e quanta voglia ha di… non solo lui in generale, questo è un discorso generale, quanta voglia ha di sacrificarsi per la causa. Senti Daniele, che mercato è stato fino adesso? Quali sono state le squadre che secondo te hanno fatto meglio il colpo che ti ha lasciato più piacevolmente convinto, la delusione, la sorpresa, il grande interrogativo delle ultime ore? Ma allora, sinceramente, anche per quello che hanno pagato, chiaramente Lukaku può essere la stella secondo me di questo mercato, soprattutto perché è un giocatore che Conte ha sempre preso ad esempio, per i suoi attaccanti prendeva Lukaku ad esempio, Lukaku non ci sbagliamo, non è una prima punta, Lukaku è più seconda punta che prima punta, è uno molto bravo a fare movimenti, a buttarsi negli spazi, quindi anche accorciare, io l'ho visto accorciare, quindi è molto bravo tatticamente, può essere quello. Se vado a vedere il rapporto qualità-prezzo, io credo che la Juve si è mossa molto bene a suo tempo con Ramsey, anche Rabiot prendendoli a parametro zero. Quindi sempre la Juve sorprendente, mi parlano benissimo, io l'ho visto, ma insomma io parlo tutto benissimo di Lozano, come giocatore che potrebbe alzare ulteriormente il livello del Napoli, creare un po' di competitività interna, perché poi un po' di competitività non fa mai male. La competitività interna sulla fase difensiva la potrebbe portare Caceres, giocatore che è arrivato oggi, ha fatto le visite mediche, giocatore che può coprire tutti i ruoli della linea difensiva, non mi sorprenderei di vederlo qualche volta a terzino, potrebbe funzionare perfetto se Montella decidesse di passare in certi momenti della gara alla difesa a tre. Il servizio sull'ultimo arrivato in casa viola è di Gabriele Lachio. Esperienza ed utilità, Martin Caceres era la prima scelta di Vincenzo Montella per rinforzare la difesa della Fiorentina. Adesso, dopo lo scambio di prestiti d'Albert Biraghi con l'Inter, anche l'uruguayano è sbarcato a Firenze per soddisfare le richieste dell'allenatore partenopeo, che ora però dovrà metterci del suo per far tornare la Fiorentina alla vittoria in campionato. E l'è successo in Serie A manca infatti dal 17 febbraio scorso, giorno del 4-1 in trasferta contro la SPAL, quando ancora sulla panchina gigliata era seduto Stefano Pioli. Un vero tabù da sfatare per Montella, che dal suo ritorno alla Fiorentina dopo l'addio di Pioli non è mai riuscito a conquistare i tre punti in campionato. Contro il Genoa ci si aspetta una squadra a grandi linee, nel segno della continuità rispetto all'esordio con il Napoli e il Franchi, ma con due possibili novità. La prima è proprio rappresentata da Dalbert, che il tecnico sta valutando con attenzione in allenamento. Probabile che il terzino brasiliano possa subito essere titolare al posto di Venuti. In attacco, invece, Boateng dovrebbe scendere in campo come falso centravanti nel tridente con Chiesa e Sottil, con Vlaovic, che così andrebbe a sedersi in panchina. Daniele Amerini, Caceres può essere un formidabile jolly, perché tra l'altro lui può fare il terzino, i due centrali, può fare anche tutte e due ruoli di terzino. Se fisicamente è in buone condizioni, io credo sia un grande acquisto. Sì, il dubbio è quello. Vedendo un po' gli ultimi suoi anni, Southampton, Verona, Lazio e Juve, credo, abbia lasciato negli ultimi due anni una trentina di partite. Quindi, chiaramente, bisogna capire la condizione fisica. Poi dovrà ritrovare, sicuramente, il ritmo e condizioni fisiche. Però, se sta bene, è un giocatore comunque di ancora di 32 anni. Poi, hai detto bene, un jolly, perché può fare più ruoli. Poi, grande personalità, grande personalità, nazionale uruguaiano. Quindi, insomma, può essere, diciamo, un rincalzo di lusso in questo momento, però è imparabile ai titolari. E poi, secondo me, gli può dare questa opzione della difesa a tre anni. Anche, però è un giocatore che comunque l'anno scorso non avevi nei ricambi dei difensori. Senti, poi ne parleremo nel secondo tempo del salotto dello sport. 20 secondi per farmi una fotografia di Genoa-Fiorentina. Genoa-Fiorentina è una partita molto complicata. Molto più difficile di quella col Napoli, che comunque affrontavi con l'entusiasmo della prima giornata, del Napoli, questi giovani in campo. Genoa è una squadra che gioca bene, è un allenatore che fa giocare la squadra. Ha preso buoni giocatori. davanti a una squadra che comunque ha giovani molto temibili, gente che comunque fa la guerra, la lotta. Quindi, sarà una partita difficile da affrontare con intelligenza e sarà, io credo, la prima vera riprova per questa squadra per capire se, diciamo, questa gioventù può reggere un campionato con continuità ad alto livello. Allora, nella seconda parte parleremo del ballottaggio più importante per quanto riguarda la formazione, come ha anticipato Gabriele Lachi. Vi daremo le novità molto belle per quanto riguardano le convocazioni nazionali, non solo della Fiorentina, parlo dell'Andal 21, ma anche per tanti altri giocatori di squadre toscane. Poi faremo un saluto al ciolito Simeone, che, insomma, se ne va senza lasciare grandissimi rimpianti. È stata una scommessa, una scommessa persa. Pochi secondi e torniamo. Allora, è stato giorno di convocazioni azzurre. Nella nazionale maggiore, l'unico giocatore della Fiorentina e delle squadre toscane Federico Chiesa, naturalmente. È stato convocato Biraghi, che però ormai ha cambiato maglia e quindi va in quota Inter. Molto più ricca la rappresentativa, diciamo, chiamiamola toscana per quanto riguarda l'Andal 21, perché ci sono Ranieri e Sottille della Fiorentina, Plizzari del Livorno e del Prato del Livorno, frattesi dell'Empoli. Mi spiegavi, Daniele, che sono giocatori che molti di questi, a parte quelli della Fiorentina, arrivano in prestito ad altre squadre. Plizzari è il portiere 2000 del Milan, che è stato anche, diciamo, nei momenti in cui Donnarumma sembrava dovesse partire, poteva essere lui addirittura il nome per fare il titolare al Milan. Quindi è un giocatore di grande perspettiva. Di grande perspettiva, molto forte. Del Prato è un giocatore dell'Atalanta che ha fatto l'Under 20, ha fatto i mondiali, ha finito da poco, quindi lo portano sopra l'Under 21. Poi c'è Frattesi, c'è Frattesi, centrocampista. Nella Roma, però c'è tutta il Sassuolo, che è in prestito all'Empoli. E poi c'è, niente, del Prato, del Livorno. I giocatori comunque facevano già parte dell'Under 20, portati... Sono contento per Ranieri, perché è chiaro che lui ha vissuto un momento di difficoltà nella partita contro il Coppa Italia, contro il Monza. Questo ha un po' frenato il decollo, ma mi fa piacere che sia convocato l'Under 21, mi fa piacere che Pradello abbia indicato come comunque uno di questi talenti che stanno crescendo. Marassi, complicatissima. Ragazzi, le squadre di Andrea Zoli a inizio stagione vanno a mille all'ora. Daniele, il grande dubbio, secondo me, al di là di Dalbert, pronto oppure no, è dare fiducia a Vlaovic o puntare invece sull'esperienza Boateng? Ti devo dire, il Boateng che ho visto contro Napoli, ho visto un Boateng forte fisicamente, perché nell'azione del gol ha retto l'impatto di Koulibaly, ha fatto un gran gol, e qui c'è anche forse da fare una scelta filosofica, forse. Sì, Boateng, ma a me è piaciuto anche con Galatasaray, ma anche con Monza, quindi secondo me è un giocatore di un altro spessore proprio di personalità, al di là dell'aspetto tecnico, tattico, comunque proprio di personalità, di un piano superiore, quindi credo un giocatore di cui la Fiorentina avrà molto bisogno. E' chiaro che se togli subito Vlaovic, non dico che è una bocciatura, però è chiaro che parliamo di... Ma te l'avresti fatto giocare titolare subito Vlaovic. Io ti confesso, alla vigilia ero sicuro che avrebbe giocato Boateng, contro il Napoli, dico il giocatore di esperienza, va lì, aiuta la squadra, ma se fai giocare Vlaovic, titolare contro il Napoli, poi lo deve essere titolare contro il Genesco. Secondo me sì, perché comunque sì, al di là ha fatto una partita onesta, forse dei giovani è quello che ha brillato meno, anche perché ha fatto un lavoro magari più oscuro, quindi però è chiaro che un giocatore che poi gioia il Napoli in casa, quella dopo poi ti metta fuori, anche se è giovane, è chiaro che è un pochino... Sì, ti aumenti i dubbi... La tua autostima cala un pochino. Potrebbe calare un po'. Allora, torneremo nel finale, le ultime riflessioni naturalmente saranno su Fiorentina Genova, e ci sarà anche un'ultima battuta sul mercato, ma facciamo un regalino di addio a Giovanni Simeone, che è partito per la Sardegna e da qui in avanti sarà soltanto un rivale. Il servizio è di Luca Renzoni. Chi è Giovanni Simeone? Da oggi proveranno a capirlo i tifosi del Cagliari, perché quelli della Fiorentina non ci sono riusciti. Bomber o bidone? Difficile dirlo, probabilmente nell'uno o nell'altro, forse solo un buon attaccante è caricato di troppe responsabilità, visto anche quel nome pesante. Il suo score in viola dice 80 presenze tra campionato e Coppa Italia e 22 gol. Una rete ogni quattro partite, in pratica non male per un calciatore arrivato 22enne in Riva all'Arno e con un solo campionato di Serie A sulle spalle. Eppure nessuno, alla notizia dell'accordo trovato con il Cagliari per la cessione, si è strappato i capelli. Anzi, i 16 milioni di riscatto obbligatorio da parte dei Sardi a fine stagione sono visti come un piccolo capolavoro di Daniele Pradè, che ha praticamente azzerato l'investimento fatto nell'estate 2017 da Pantaleo Corvino per strappare il centro avanti al Genoa. D'altronde, il Ciolito si presentava con un biglietto da visita di tutto rispetto. 13 gol in 36 partite al primo anno in Italia, giovanissimo. Promesse mantenute sotto la gestione Pioli a Firenze, 40 presenze tra campionato e Coppa e 14 gol nel 2017-2018. Eppure, già un anno fa, i giudizi su di lui erano divisivi. Chi continuava a sperare di aver trovato un nuovo condottiero argentino sulle orme di Batistuta e chi ne vedeva solo i difetti, una tecnica non eccelsa e una mira tutt'altro che infallibile sotto rete. Mira, che nella sua seconda stagione in Viola è drammaticamente peggiorata. Stesse 40 presenze del primo anno, ma con soli 8 gol, di cui 2 in Coppa Italia. Con l'arrivo di Montella, che di centramanti se ne intende, la sua considerazione è crollata. Quest'estate, il Ciolito non è mai entrato realmente nel nuovo disegno tattico Viola. A Cagliari, dove ritroverà Pavoletti, suo partner d'attacco al Genoa, cercherà maggiore fortuna e se dovesse fare bene ai tifosi Viola non resterebbe che continuare a chiedersi chi è Giovanni Simeone? Un bomber o un bidone? Ciao Ciolito, io gli dissi la prima volta non fare paragoni con Batistuta, perché non ti farebbero bene, ti creerebbero le aspettative diverse, poi inevitabilmente, l'accoppiamento è stato ovvio, ma ogni volta che ho sentito Simeone, Re Leone, ho detto questo ragazzo andrà in grande difficoltà. comunque resta un bravissimo ragazzo e questo mi basta e avanza. Daniele, siamo nel finale, facciamo un giochino io e te, tanto poi lunedì ci riprendono tutti. Un giocatore sul quale scommetteresti magari nell'ultima ora l'ultimo colpo Viola? Sinceramente non è facile, però io credo che quello su cui concentreranno le proprie forze in questi ultimi giorni, perché l'unico che secondo me vogliono veramente è De Paul e ci proveranno fino alla fine, magari abbassando il prezzo. Ma è fregato l'idea? Allora, premesso che avrei detto lo stesso nome, allora dico Pedro, perché se veramente poi l'Udinese dice no e l'Udinese ha la forza economica per dire no, Pedro sarebbe la grande sfida, il giovane di prospettiva, sarebbe il brasiliano di potenza e di qualità che porti in casa, che puoi far crescere avendo già delle soluzioni anche di esperienza come Boateng, potrebbe essere questa la grande scommessa. Allora, ringraziamo Daniele Amerini che ritroveremo nei prossimi settimane, questo è casa tua, quindi saremo ben felici di ospitarti, ci chiude questa settimana del Salotto dello Sport, ma domenica su RTV38 potrete vivere nella trasmissione Viola, la seconda puntata, bravissimi tutti i protagonisti della prima, potrete vivere l'andamento della partita di Marassi, ci saranno anche dei collegamenti con Marassi, io Tenerani, ma anche l'amico Marchini saremo lì, quindi tutti cercheremo di raccontarvi che cosa succede in uno stadio che è sempre molto, molto affascinante, ma anche molto, molto complicato per chi deve esibirsi, e poi la struttura RTV38 vi sta preparando una bellissima sorpresa per lunedì, cercheremo di farvi vivere le ultime momenti, le ultime ore del mercato in presa diretta e raccontarvi tutto quello che succederà, non solo della Fiorentina, ma che fine farà Icardi, quale sarà l'ultimo colpo delle altre grandi, aspettando che poi arrivi anche quella ciliegina sulla torta che possa alzare il livello della squadra viola. Ma domenica vi racconteremo tutto, ma stiamo preparando veramente qualcosa di speciale, abbiamo detto tutto, grazie e ci vediamo lunedì.